Allora, vi ricordo ancora una volta che in descrizione vi sono trovato il link di affiliazione che vi rimanda al sito di Disney Plus dove c'è fino al 23 marzo l'offerta per abbonarsi a 59 euro, 99 centesimi invece di 69,99 quindi se vi interessa e avete voglia di usare questo link sappiate che mi supportate perché è per appunto un link di affiliazione e voi non cambia nulla perché magari volevate già abbonarvi io sono molto curioso per Disney Plus e non vedo l'ora che sia il 24 marzo quando finalmente il servizio diventerà disponibile anche in Italia ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con la recensione di oggi, sigla! Allora, oggi voglio parlare di un film che volevo vedere da un sacco di tempo perché mesi fa, era ancora il 2019, nel cinema dove vado di solito mettevano sempre sistematicamente il trailer e io e la Svet ogni volta ridevamo come coglioni perché sembrava qualcosa di assolutamente trash e mi riferisco a un film 19 per la regia di George Ratliff ed è Welcome Home Allora, a vedere il trailer sembrava un film veramente brutto ho detto voglio vederlo perché magari ci esce una recensione incazzata l'ho guardato l'altra sera con la Svet e posso dire che questo film è un controfiletto di merda servito con un purè di stronzi e una salsiccia lunghissima di stranzetti morbidi è un crumble di guano di pipistrello piuttosto che di guardare questo film io mi tirare giù le braghe e metterei i coglioni su dei rovi spinosi ma siccome non voglio morire prima del tempo andiamo con ordine ragazzi, questa è una bomba di merda a frammentazione io un film così brutto non lo vedevo da tantissimo tempo e devo dire che il trailer non gli rendeva giustizia perché guardandolo mi sono reso conto di quanto sia orribile se volete farvi delle risate guardatelo in gruppo non ve ne pentirete allora, perché il trailer faceva ridere? innanzitutto perché protagonisti del film sono Aaron Paul, Emily Ratajkowski e Riccardo Scamarcio non vi sembra un cast assortito veramente con il buco del culo? io mi chiedo come abbiano scelto gli attori senti un po' Oreste, per quanto riguarda il cast di quel film lì welcome home, come facciamo? non so veramente chi scegliere beh ma caro flout, sia molto semplice usiamo il mistico metodo del cappello magico vediamo chi sono i protagonisti una coppia di americani rincoglioniti in crisi molto bene, allora per lei scegliamo Emily Ratajkowski per lui invece Aaron Paul, che Breaking Bad è ancora di tendenza beh ma è fantastico, avranno sicuramente un'alchimia incredibile e invece il cattivo è un italiano un po' stronzo con la faccia di merda chi prendiamo? vediamo subito Bombolo beh Bombolo non aveva la faccia di merda e soprattutto è morto giusto, giusto allora Riccardo Scamarcio oh mio Dio ma è perfetto! sarà un film della Madonna! io vi giuro non capisco come abbiano potuto pensare di mettere insieme Aaron Paul Emily Ratajkowski e Riccardo Scamarcio Aaron Paul e la Ratajkowski hanno l'alchimia di un leccio che incontra un calzascarpe vi giuro sono assolutamente disconnessi non sanno recitare bene l'uno con l'altra Aaron Paul è un bravo attore secondo me la Ratajkowski ha un bellissimo profilo Instagram ma non più di quello diciamo che la Ratajkowski non è conosciuta per le sue doti attoriali perché di fatto non sa recitare sbaglia tutte le espressioni sbaglia gli attacchi delle battute non è capace a esprimere le emozioni come dovrebbe fare il suo personaggio Riccardo Scamarcio è Riccardo Scamarcio tra l'altro signori Riccardo Scamarcio doppia se stesso esattamente come ha fatto in John Wick 2 ora io sono morto da ridere ogni volta che entra in scena Scamarcio perché la differenza tra i doppiatori professionisti e lui era abissale oltretutto il personaggio è scritto veramente con il tratto finale del colon degli sceneggiatori perché davvero è qualcosa di imbarazzante quindi ci saranno spoiler se non l'avete ancora visto Welcome Home non continuate la visione del video ma ragazzi non so a quanti interessi non farsi spoilerare questa torre di merda alta 600 metri comunque io vi avviso allora succede questo abbiamo una coppia di americani idioti come la merda che vanno in viaggio in Umbria e vediamo quindi all'inizio la schermata per comprare i voli sul computer comprano per l'appunto i voli prenotano questo casale dove trascorreranno sei giorni da sogno nella loro testa è questa l'idea e vanno per l'appunto in Umbria arrivano ma il tizio che li sta portando li porta per sbaglio davanti a questa villa faticente che però sembra per qualche motivo scuro affascinare il personaggio della Rata Icoschi allora arrivano entrano in casa tranquilli scoprono che c'è la cantina con i vini trovano il vino sul tavolo e lui prende la Rata Icoschi e la sbatte sul tavolo per scoparsene ma poi non se la scopa iniziano a tubare a darsi i bacini e a un certo punto loro che sono in questa villa isolata in campagna dove non c'è nessuno nel raggio di 560 miliardi di chilometri hanno l'idea del secolo siccome entrambi si rendono conto di stare guardando troppo lo smartphone lei ha la proposta del secolo amore non ti sembra proprio la classica villa da film horror con i turisti scemi che vengono uccisi? hai ragione Emilia Tecoschi sembra esattamente quel tipo di villa allora senti che idea una brillante ho avuto siccome siamo troppo dipendenti dagli smartphone perché non li mettiamo in un cassetto al piano di sopra così se qualcuno cerca di ucciderci non abbiamo nessun mezzo di comunicazione per salvarci ma sei un genio Emilia Tecoschi tanto mi ero stancato di vivere non è che vada esattamente così ma il sottotesto è quello propongono di mettere via i telefoni mentre sono in una cazzo di villa antica nel centro dell'Umbria senza una persona nel raggio di veramente parecchi chilometri e mentre Ron Paul va a mettere a posto i telefoni che cosa succede? che lei riceve una chiamata lui guarda il display e improvvisamente gli viene la faccia di Bella Lugosi quando interpretava Dracula una cosa tipo questa è chiaro che ci siano guai in paradiso qualcosa tra loro non va lui scende al piano di sotto la trova in piscina si mette dentro anche lui iniziano a limonare peraltro quando prima ho detto che loro non hanno la minima alchimia non scherzavo quando si baciano è uno spettacolo terrificante perché lei si mette a bocca aperta così e lui le mangia letteralmente la faccia sembra un documentario su come la Vespa uccide la sua preda mangiandola cioè è qualcosa di terrificante lui però ha qualcosa non va tutto bene non riesce a bombarsela e dice di non farcela utilizzando una scusa idiota dice non posso trombarti perché mi inquietano troppo quelli e indica questi nani da giardino quindi Aaron Paul non riesce a trombarsi la rata ai coschi perché ha paura dei nani i nani, i nani, i nani era inevitabile comunque sia lei va a dormire lui però non riesce a prendere sonno cerca di parlare prima che lei si addormenti di quel qualcosa che lo sta torbando lei non sembra particolarmente interessata a continuare la discussione lui dice facciamo il gioco di due verità e una bugia e inizia a dire alcune cose tra cui una che ci fa capire che lei ha fatto qualcosa ma non ci è dato ancora sapere cosa lei si addormenta lui va al piano di sotto e tra l'altro c'è questa scena con questa musica tipo con lui che si agia tra i colleghi della casa e pam spegne il grammofono e non ho capito se era una gag simpaticissima sul fatto che la musica che stavamo sentendo fosse proveniente dal grammofono oppure se semplicemente volessero mettere tensione con una scena inutile tra l'altro quanto mi fa ridere che gli americani abbiano ancora l'idea degli italiani che li dipinge come dei contadini arretrati cioè va bene che è una villa antica e quant'altro ma il grammofono cioè ve prego no non è proprio un grammofono è un giradischi comunque sia è vero che qualcuno sicuramente ce l'avrà un giradischi per l'amor del cielo ma perché questi vanno in Umbria la casa è molto vecchia e dentro sembra che ci sia l'arredamento degli anni 40 con tanto di giradischi non ha assolutamente senso questa cosa però vabbè e lui il giorno dopo è ancora indispettito lei allora decide di andare a correre sappiate che questo film durerà un'oretta e 40 e la Ratajkowski ogni 10 minuti per contratto probabilmente aveva una scena in cui si dovesse spogliare o fare la doccia la vediamo fare la doccia la vediamo mettersi gli shorts super provocanti con lo spacco del culo in vista deve sempre mostrare una scisa è un po' avvilente nel senso che boh non lo so sembra che l'abbiano scelta solo ed esclusivamente per mostrarla mezza biotta è vero che non ha tutte queste grandi qualità recitative ma magari utilizzarla come un oggettino da mostrare al pubblico potrebbe anche starci però scelta della produzione che cosa succede che lei va a correre ma inizia ad avere dei flashback del Vietnam su qualcosa che non la lascia in pace e improvvisamente inciampa in un ramo si slaga la caviglia e vola a terra e passa un'auto lei chiede aiuto nel frattempo si è messa sul ciglio della strada a camminare zoppicando l'auto passa avanti e lei dice ti ho chiesto aiuto stronzo l'auto si ferma scende una persona e ce la mostrano sfocata in lontananza come se stessero per introdurre il personaggio più importante della terra e chi è ma naturalmente Federico interpretato proprio da Riccardo Scamarcio e il bello è che arriva con questa faccia da super tenebroso che in realtà fa ridere perché si vede proprio che Scamarcio in questo film si è sforzato per sembrare cattivo e in realtà sembra solo un deficiente che prova a fare il cattivo cioè questo personaggio è ridicolo e assurdo e oltretutto è talmente viscido è talmente creepy che nessuna persona sana di mente si sognerebbe mai di dargli confidenza arriva e senza neanche chiedere nulla si abbassa prende la caviglia Ratajkowski e dice non è niente di grave è medico non lo sapevo giustamente Ratajkowski chiede come faccio a saperlo e lui dice beh non si è gonfiata fosse stata grave si sarebbe gonfiata va bene ok sei laureato all'università della vita in medicina mi fa piacere e quindi Ratajkowski si fa dare un passaggio da lui che la porta a casa e mentre sono in viaggio scopriamo che la casa un po' fatiscente che aveva affascinato lei il giorno prima a cui erano stati portati per sbaglio è la casa la villa di Federico peraltro non ci vuole un genio a capire che quel posto è abbandonato e che non ci vive nessuno da una cosa come 640 anni ma questo non importa quello che importa invece c'è che la Ratajkowski e Scamarcio parlano fluentemente come se niente fosse nonostante lei non sappia una parola di italiano e lui non sembri stare parlando in inglese è il classico linguaggio universale che ci hanno sempre proposto i cinepanettoni ovvero quando i protagonisti dei cinepanettoni vanno in una località esotica che può essere l'Egitto può essere l'India può essere anche una località come gli Stati Uniti d'America tutti si capiscono tutti parlano la stessa lingua è il basic di Star Wars cioè io quando ho visto questa cosetta ma non potevano sforzarsi che so di mettere di far vedere lei che faceva fatica a parlare oppure mettere l'audio di uno dei due in inglese non lo so fai qualcosa fai qualcosa porca puttana no l'unica cosa che fa la rate cos che farsi portare a casa Federico invitarlo a bere un caffè lui rifiuta lei entra in casa poi a un certo punto chiede a Ron Paul pensando che sia lì perché sente i rumori ascolta ti è piaciuta la colazione la sorpresa che ti ho fatto stamattina perché gli aveva lasciato la colazione si gira urla perché scamarcia è entrato in casa e questa cosa ve lo dico capiterà diverse volte nel film questo è un tizio che compare dal nulla fa dei discorsi sempre inquietanti è viscido come la bava delle lumache ti entra in casa ogni due per tre senza neanche chiederti il permesso e ancora gli danno corda giustamente quando a Ron Paul arriva lì lì lo trova e dice ma scusa questo che cazzo nel senso e dice no mi ha aiutato eccetera e lui inizia un pochino a dire sì ma questo cosa vuole insomma è un po' scontroso e lo capisco anche porca puttana tra l'altro lui arriva proprio dopo che si è scoperta una cosa a un certo punto la sera prima si era vista questa scena in cui venivano inquadrati dei monitor in un luogo che sembra quasi una caverna e i monitor sono puntati nelle stanze della casa quindi qualcuno li sta osservando loro non lo sanno lo sa lo spettatore però voglio dire è ovvio che questa persona ha qualcosa che non va Federico se ne va e ha romputo la Ratekoski stanno per trombare in bagno ma lui non riesce stavolta non ha scuse dice non ce la faccio non ci riesco scusami e se ne va e continua a guardare ossessivamente questo cofanetto con un anello di fidanzamento è chiaro che lui vuole chiedere a Ratekoski di sposarlo ma c'è qualcosa che lo blocca non sappiamo ancora cosa ma presto diventerà chiaro c'è Maretta tra i due i quali dopo aver discusso litigato decidono di accettare il passaggio di Federico che nel frattempo è tornato da loro per andare a Terni credo e mentre sono in macchina c'è Aaron Paul con la faccia la funerale la Ratekoski visivamente incazzata che conversano con Federico e per dimostrare che gli americani sono ancora convinti che noi viviamo nell'ottocento c'è lei che dice a Federico per rispondere alla domanda come vi siete conosciuti che ha conosciuto Aaron Paul su Tinder e Federico dice e che cos'è Tinder? tra l'altro lui poco prima ha detto che è un tecnico informatico ora spiegatemi quale tecnico informatico sotto i 65 anni non sappia cosa sia Tinder può essere che non lo usi ad esempio anche quando ero singolo io non l'ho mai usato perché non è il tipo di applicazione che mi interessa a me non interessa conoscere ragazze che non so neanche chi siano preferisco conoscere ragazza la vecchia maniera molto semplicemente però non giudico chi lo utilizza è un'applicazione che può rivelarsi anche molto utile per chi magari non vuole una relazione non ha il tempo di cercare di conoscere qualcuno tradizionalmente e quindi parla chiaro subito pane al pane viva al vino si tromba non si tromba fine ok ci può stare questo che avrà una quarantina d'anni non conosce Tinder eppure è un tecnico informatico vai a sapere come sia possibile vengono portati a Terni e loro due vanno a fare questa sorta di gita vanno un pochino così a camminare per prendere un po' d'aria e lei continua a dire ma che cos'è che hai ma perché stai così e lui dice senti non ce la faccio perché io continuo a rivedere quella scena perché si vede lui che ha in mente lei che veniva trombata da questo tizio tatuato super muscoloso tra l'altro quando lui aveva spento il giro di ischi poi si era sdraiato e aveva iniziato a pensare a lei mezza nuda e si è iniziato a fare una sega con sui pantaloni quindi una cosa un'opera d'arte cioè lui che si smanetta ma con sui pantaloni pensando alla sua ragazza che poco prima voleva trombarsi ma non è riuscito a trombarsi e lei dice ma che cazzo sta succedendo così confuso da colpirsi da solo e scopriamo che lei in un momento in cui loro due erano in crisi ha ceduto all'avance di questo tizio se l'è scopato però mentre era molto ubriaca e lui non gliela ha ancora perdonata del tutto ha cercato di farlo ma è bloccato al che litigano lei se ne va fa per andare al banco per prendere i soldi per un taxi nonostante Federico solo il giorno prima avesse detto eh auguri se volete andare col taxi qua non ci sono taxi all'improvviso è pieno di taxi vabbè non sa come prelevare perché evidentemente ha difficoltà con la rabbia del momento a capire il banco matitaliano e arriva Federico e dice aspetta dirò una mano io e lei chiede Federico ma com'è possibile che tu sei sempre qui per me in ogni momento in cui io sono in difficoltà beh ma è molto semplice testa di cazzo ti sto seguendo la sta seguendo ma se ne accorgerebbe anche un mufflone con problemi eh di memoria non lo so ragazzi davvero com'è possibile che la Ratekowski non capisca che questo è inquietante Aaron Paul fino a quel momento si è dimostrato molto diffidente nei confronti di Federico non lo tollera non lo sopporta al punto che la Ratekowski va a casa e Aaron Paul cosa fa va a bere qualcosa con Federico alla faccia di chi proprio non si fida si ubriacano come delle merde e guarda caso in quel momento nel bar arrivano queste due strappone amiche di Federico una delle quali è interpretata da Katie Sanders se questo nome vi ha fatto scattare una campanella di avviso mortale nell'orecchio è perché Katie Sanders non è un'attrice statunitense a discapito del nome no no è italiana e sappiamo tutti qual è il ruolo più importante che abbia mai ricoperto signore e signori una delle due che cercano di sedurre Aaron Paul in questo film è Bobby di tre metri sopra il cielo Scamarcio e Bobby ancora insieme nel peggior film che io abbia visto nel 2019 cioè quando ho visto questo revival stavo morendo non sapevo se ridere non sapevo se piangere è geniale cioè è geniale mettere come comparsate in una scena con Scamarcio Katie Sanders cioè devo dire a George Ratliff probabilmente lui non lo sapeva ma hai fatto il revival più trash del secolo bravo bravo succede che Federico fa ubriacare tantissimo Aaron Paul e a un certo punto quando Aaron Paul è lì che limonicchia con le due tizie Scamarcio dice dai facciamo il gioco due verità una bugia e questo è un indizio dato a Aaron Paul per far capire che li ha sentiti in qualche modo e come avrebbe potuto farlo se non introducendosi in casa oppure osservandoli con qualche telecamera ma Aaron Paul non sembra farci troppo caso lui dice una cosa tipo tu hai bevuto veramente tanto ricorderai sicuramente questa cosa e Cassie che sarebbe la Ratekoski al momento è a casa da sola e io ho le chiavi questa cosa inquietantissima e vediamo che Aaron Paul va in hotel con le due tizie presumibilmente se le bomba di violenza e intanto Scamarcio si introduce in casa dove c'è la Ratekoski che dorme ovviamente sempre con il culo in vista arriva lì prende le dita alla mano di lei si mette no scusate no è il contrario prende le dita le mette in bocca a lei che nel sonno inizia a baciarle perché pensa probabilmente che sia lui e poi fa questo quest'uomo è tutti i molestatori del mondo incarnati in una sola persona signori quanto cazzo è inquietante figa cosa ci possono mettere quanto ci possono mettere i personaggi protagonisti ad accorgersi il giorno dopo Aaron Paul arriva dicendo di aver perso il cellulare di essersi ubriacato non ricorda molto poi va in doccia e si trova un succhiotto gigante qua e fa oddio forse l'ho tradito no ma magari no oddio no cosa avrei mai fatto te la sei bombata quindi insomma lui un po' così spaventato prende va a fare un giro perché loro litigano ancora con lei che dice tu non ti fidi di me ragazzi allora scusate nel senso io non voglio giudicare per l'amore del cielo però questa al primo momento di crisi ha avuto un attimo di debolezza ed è andata col Marcantonio tatuato che se l'è sbattuta in tutte le posizioni possibili Aaron Paul ha saputo questa cosa ha cercato di perdonarla ora io non dico che lei deve accettare di essere trattata male ma Aaron Paul non è che l'ha stata trattata male è solo molto ferito però magari potresti anche non andare a dire al tizio che hai tradito la prima occasione tu non ti fidi di me certo che non si fidi di te e anche un po' grazie al cazzo aggiungerei cioè è normale che non si fidi di te ci vorrà del tempo non lo puoi forzare non so se mi spiego comunque sia lui va a fare un giro e lei è in casa tranquilla a un certo punto Federico più o meno in casa lei si spaventa ancora e lui dice scusa c'era la porta aperta va bene allora entriamo nelle case della gente perché la porta è aperta grandissimo psicopatico di merda nel frattempo Aaron Paul va alla casa presunta di Federico la cascina un po' vecchia e fatisciente e ovviamente come era evidente dall'esterno visto che c'è una fioritura di edera più grossa del cazzo di Rocco Siffreti è tutto abbandonato è tutto fatisciente non è una casa abitata allora cosa succede che lui torna a casa e intanto Federico ha cucinato il coniglio e la cacciatura peraltro Federico che più o meno in casa perché la porta era aperta ha in mano un coniglio morto quindi immaginatevi questa che di tranquilla si viene adentrando in casa un tizio palesemente inquietante che è entrato perché la porta era aperta con un animale morto in mano io la prima cosa che farei sarebbe giocarci al tiro al bersaglio per la paura perché mi cagerei addosso pensare di Cristo Santo questo è Jason Wuri senza la maschera se non fosse per il fisico che tradisce questa cosa e Aaron Paul torna a casa tutto trafidato perché voleva dire alla ratekowski guarda che questo non è il nostro vicino è un piccio ma arriva e se lo trova in casa che ha cucinato il po' la cacciatorola lo prende a parte e dice senti adesso te ne vai e fa sì e se io me ne vado allora potrei dire alla tua ragazza che l'hai tradita perché tu ieri mi hai letto che avresti voluto pareggiare i conti certo era ubriaco e quindi lui per paura che dica questa cosa anche perché lui è convinto non è fatto niente di che fa buon viso a cattivo gioco e scamarci inizia a dire sapete cosa mi piace del coniglio la caccia è molto più eccitante della caccia al cervo sentire la preda in trappola giocare con lei cioè sta parlando di loro due o di lei magari quindi insomma allora lui dice adesso te ne vai o chiamo la polizia perché veramente lo faccio e la la tecoschi dice grazie che l'hai mandato via perché mi inquietava ma va siamo arrivati a un'ora e dieci di film per capire che è una persona che non andrebbe avvicinata da nessuno e adesso tenetevi forte allacciate le cinture perché questa montagna russa dell'orrore sta per iniziare a percorrere a velocità folle delle curve di idiozia che non credo potreste mai immaginare neanche pensando le cose più stupide che vi vengono in mente lui si sente ingrifato perché si sente unito a lei contro Federico e quindi ha capito che se la vuole bombare va in cantina a prendere il vino ma la porta si chiude lui va alla porta e fa si è chiusa è una porta tipo del settecento in legno massello che non ha neanche per sbaglio il meccanismo di chiusura a scatto non è una porta del 1999 è una porta che ha una sua età è dall'inizio del film che continuate a ripeterci quanto noi italiani siamo tradizionalisti viviamo nelle ottocento senza tecnologia dovresti saperlo Aaron Paul l'ha chiusa probabilmente qualcuna qualcuno dall'esterno lui ancora non lo capisce e trova il passaggio segreto che porta alle stanze dove Federico li sorveglia o meglio lui non arriva dove li sorveglia ma è un passaggio che lo porta nel salotto quindi capisce che ci sono dei passaggi sotto la casa ora Federico Scamarcio tu sai che ci sono questi passaggi e tu intrappoli Aaron Paul nell'unico posto da dove si può accedere a uno di questi passaggi ma sarai deficiente sarai rincoglionito la Ratekowski trova dell'intimo e una benda con scritto indossa questi aspettami di sopra ovviamente non è stato Aaron Paul ma Federico lei però non lo sa si mette la benda si mette l'intimo peraltro come ha detto anche la Svett è l'intimo quello preso dai cinesi sotto casa io un intimo così brutto con un color cimice morta con questo effetto di possetto una roba bruttissima non l'avevo mai visto lei va sopra arriva Scamarcio che inizia tipo a baciucchiarla ad appoggiarglielo e quando Aaron Paul entra in soggiorno vede la scena Federico se ne va quindi vede la scena registrata ed è convinta che lei l'abbia tradito con Federico nello stesso tempo quando Scamarcio se ne va perché non se la bomba ancora vuole giocare un po' prima se ne va lasciando il telefono che Aaron Paul era convinto di aver perso e sul telefono lei trova il video delle due strappone che se lo sono scopato ma lui è evidentemente in stato di incoscienza effettivamente lui non se lo ricordava pensava che il succhiotto fosse stato magari un morsetto così quindi lei va giù inizia e gli fa tu ti sei scopato Federico ma no non è vero tu invece hai scopato questo ma io non me lo ricordo te lo giuro lei lancia il telefono in un'impietudiera spacca lo specchio e scoprono una delle telecamere Federico che nel frattempo è tornato nella stanza dei monitor ad osservarli vede che questi hanno spaccato lo specchio e fa oddio oh no e allora va da loro e lui dice non doveva andare così e dovevamo solo osservarvi ma poi ci siamo innamorati pazzo furioso cioè lei dice ma che cazzo chi ti conosce tira fuori il coltello c'è collutazione con Aaron Paul finché l'Aratekowski prende un attizzatoio glielo spacca in testa e mentre lui è per terra che si contorce in un impeto di paura e ira gli sfonda il cranio e allora lui dice oddio cosa facciamo dobbiamo occultare il cadavere ma comunque il cadavere la polizia si chiamiamo la polizia così vedono sul filmato che tu l'hai infierito su di lui uccidendolo quando potevi tranquillamente lasciarlo lì tramortito e andartene e allora cerca di incontrare il cadavere ma nel frattempo arriva il proprietario della casa questo famigerato Edoardo che loro erano convinti non esistere ma che fosse in realtà Federico sotto mentite spoglie anche se c'erano le fatte di questo Edoardo però ha detto potrebbero essere fatte di chiunque messe lì in realtà Edoardo esiste che era stato avvisato un paio di giorni prima da da Aaron Paul dicendo c'è questo Federico che ci gira intorno in casa guardate che non capisco allora arriva questo tizio che non chiedetemelo perché parla come un imitatore di Ferruccio Amendola avete presente Ferruccio Amendola il doppiatore di Dustin Hoffman di Stallone di De Niro che ovviamente adesso è morto ormai non è più lui ovviamente a doppiare questi personaggi però non so perché parla anche con la stessa Zeppolo e lui dice ma perché ma perché deve parlare come Ferruccio per quale motivo ma quale perverso omaggio dovrebbe essere che questo tizio parla come Amendola ma per quale motivo quindi succede questo che arriva Edoardo che dice tutto a posto sì sì non si preoccupi lo manda a mio con una scusa ma Edoardo era d'accordo con Federico perché quando era nella stanza di monitor poco prima di andare da loro lui continua a ricevere delle chiamate era Edoardo evidentemente erano soci in affari a capire quali fossero questi affari ma si capisce proprio nell'ultima scena e però Federico aveva fatto una cazzata si è innamorato di lei cercava di farsa in sostanza allora cosa succede lui vede che va a vedere le registrazioni vede che ha ammazzato Federico è incazzato nero e con sembra Tommy Wiseau quando è incazzato alla fine di The Room che sfonda la stanza però con nonchalance la stessa cosa tipo vede Federico che muore urcri incoglionito va giù con la pistola e minaccia la Ratekoschia sta arrivando Aaron Paul con la tizzatore lui si gira e fa no voi adesso dovete pagarla si gira per sparare Aaron Paul la Ratekoschia arriva da dietro e c'è questa scena di lei che gli immerge nel fianco con una lentezza incredibile il coltello con lui che fa e vi giuro sembra la scena della peggior morte di sempre del turco di quel fin turco poi arriva Aaron Paul che spara in faccia a Edoardo occultano cioè lui sfonda tutte le telecamere le prende le brucia occultano il cadavere e dicono non ne parleremo più è tutto tranquillo è tutto finito se non fosse che si scopre che Federico e Edoardo in realtà avevano un sito dove le persone potevano guardare le coppiette che amoreggiavano e facevano cose ma in teoria non avevano brutte intenzioni a livello fisico è Scamarcio che era impazzito e aveva mandato tutto puttane ma il punto è che la scena finale sono varie persone nel mondo che vedono questa scena di loro che insomma scavano la fosse e buttano dentro i cadaveri perché si sono dimenticati le uniche videocamere che non pensavano fossero videocamere quei cazzo di nani da giardino e io mi chiedo ok va bene hanno dimenticato i nani quindi c'è gente ma oddio oddio no ma è vero ma hanno ammazzato veramente le persone oddio oddio ma tutte le scene prima con cioè se è in streaming tutte le scene prima con loro che ammazzano Federico loro che ammazzano Edoardo non sono state viste cioè la cosa peggiore che hanno visto è loro che buttano i cadaveri che neanche si vedono perché sono avvolti in un lenzuolo cioè non ha veramente senso questa cosa e alla fine c'è la copia che fa cosa facciamo beh guardiamo un altro e se ne sbattono i coglioni quindi loro probabilmente la faranno franca perché è questo il messaggio del film le tecnologie ci allontanano le tecnologie e la gente poi è pure indifferente qualcosa di originale no eh quindi questo era Welcome Home uno dei film più brutti che abbia visto nel 2019 girato anche in maniera abbastanza scialva però devo dire che la regia e la fotografia sono normali non sono niente di che è proprio la sceneggiatura e il modo in cui hanno interpretato il tutto a essere stato assolutamente assurdo cioè per me è un putridume orribile guardatelo per farvi dualizzate ragazzi sono sicuro che morirete da ridere GG per Scamarcio il suo doppiaggio terribile il suo autodoppiaggio terribile GG per la reunion tra lui e Katie Saunders GG per Aaron Paul che in ogni scena era visibilmente lì che si chiedeva ma perché ho accettato di fare sto film di merda GG per la data Icoschi che ha accettato di farsi strumentalizzare in una maniera così vergognosa GG per George Ratcliffe regista con l'attivo già diversi film che per qualche motivo malsano ha deciso di fare un film di siffatta levatura GG totale questo film è il nirvana della merda quindi questo è quello che pensavo di Welcome Home un film a dir poco raggerante io vi abbraccio che sia stato tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo Mui Vlog ciao a tutti